Di nuovo in aula per il crack di Banca Etruria ad Arezzo, il filone che attende ancora la sentenza è quello delle consulenze d'oro. Il pubblico ministero, Angela Masiello, ha terminato la sua requisitoria chiedendo che venga dichiarata la responsabilità penale per tutti e 14 gli imputati. Le richieste di condanna vanno dagli otto mesi ad un anno. Per Pierluigi Boschi, all'epoca dei fatti, vicepresidente della banca e padre dell'ex ministro Maria Elena, e per Luciano Nataloni, Claudia Bugno e Luigi Nanni Pieri, è stata richiesta la condanna a dodici mesi. Per le altre posizioni, invece, sono stati chiesti otto mesi per Daniele Cabiati, Carlo Catanossi ed Emanuele Cuccaro, nove per Alessandro Benocci, Claudia Bonollo, Anna Nocentini-Lapini, Giovanni Grazzini, Alessandro Liberatori e Ilaria Tosti, e dieci mesi per Claudio Salini. L'udienza è poi terminata con le requisitorie delle parti civili, mentre le arringhe dei difensori sono previste per l'11 e il 12 di maggio prossimi.